Amici di Urban Week, questo pomeriggio siamo in compagnia, lo riconoscerete sicuramente, di Alessio Bertallot, conduttore, cantante, cos'altro? Artista fantasista secondo l'Empals, la vecchia definizione che davano ai lavoratori dello spettacolo, secondo la mia categoria. Ho dovuto scegliere questa perché l'altra la vedete su Brett. Quindi tra i due male scegliere il minore. Esatto. Allora, oggi si parla di musica, di radiofonia, di mondo giovane. Tu, classe 62, se non erro, nato ad Aosta, cosa consigli ai giovani che oggi vogliono avvicinarsi al mondo della radio? Ma la radio, bisogna pensare un po' come un libro, la radio, come leggere un libro, nel senso che ha la cosa bella di non definire tutto, di non raccontare tutto, di lasciare molto spazio all'immaginazione. Quindi questo, secondo me, è il primo tipo di interattività, realmente. Quando tu leggi un libro, non ci sono le immagini, ce le metti tu, le costruisci tu le immagini. Questo fa del libro qualcosa di unico e irripetibile, un'esperienza. Ecco, la radio deve essere un'esperienza, non deve essere uno standard. Troppo spesso viene ragionata come un prodotto commerciale e basta, vengono realizzati degli standard e così si interrompe la comunicazione che piace a me, perlomeno. Poi ci sono anche altre soluzioni. A chi vuole lavorare in radio, suggerisco quello che bisognerebbe suggerire a tutti i creativi, quello di avere coraggio e di avere delle idee. Si è parlato di radio indipendenti, un'utopia o è possibile? Ma se ne parla da quando sono nate le radio. Diciamo che è contemporaneamente un'utopia, è una realtà ed è anche una cosa difficile da realizzare. È una tensione, è un orizzonte che si cerca di raggiungere e che non si raggiungerà mai, però intanto ci siamo ossi. La tua apparizione a Sanremo, tu sei un tipo abbastanza estroso, forse è quella la strada giusta. No, è dura, guarda. Noi siamo stati a Sanremo nel 92 con Aeroplani Italiani facendo un gesto teatrale, cioè portare incastonato dentro una canzone 30 secondi di silenzio, che volevano essere un gesto che porgeva un vuoto al pubblico. In un contesto dove si riesce soltanto a mettere dei pieni ottusi, abbiamo provato a dire adesso che c'è un vuoto cosa fate? Cosa pensate? Però è stata dura, cioè è difficile cavalcare un'onda che cerca di travolgerti. È stata un'azione un po' pirata quella che abbiamo fatto. Adesso una cosa del genere bisognerebbe, che so, farla al grande fratello, per dirti. Bisognerebbe studiare una cosa per cui fai un'incursione dimostrativa, perché comunque non bisogna credere in queste cose che la televisione propone, perché soprattutto quel tipo di televisione non racconta delle verità. È un modo così di incantare il pubblico e basta. Quindi se vuoi saperla usare senza esserne vittima devi pensarci molto bene. Quindi attualmente anche a livello sociale, politico, qual è secondo te l'azione giusta da fare? Ma a livello sociale e politico, sai, bisognerebbe che ci si rendesse conto in questo paese che è finito il momento in cui non si è più responsabili e non si è più coinvolti in quello che sta succedendo. Non ci si può più lamentare di un establishment che governa male se fino a ieri ti sei tranquillamente non occupato di quello che succedeva. Bisogna cambiare un po' tutti. Torniamo quindi al tuo lato artistico, effettivamente. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? È possibile? Domanda nella domanda. Seguire una persona cara che fa questa vita, cioè il mondo dello spettacolo a volte viene spesso criticato per queste ragioni. È possibile? In che senso seguire una persona cara? Sei sposato, fidanzato? No, è possibile, è possibilissimo. Guarda, un sacco di amici che hanno una famiglia, tranquillamente. No, anzi... Tu no? No, io no. Però, guarda, mio padre che non ha mai lavorato in uno spettacolo, ma è un ufficiale di marina, è stato per lunghi periodi lontano da casa, ma la famiglia ce l'ha avuta lo stesso. No, sono cose che puoi gestire. Diciamo che lo scrupolo di fare una buona qualità spesso ti costringe a lavorare tantissimo. Quindi a dover sacrificare molto per il lavoro, nella speranza che ne valga la pena. Però non è che si fa tutto. La passione spesso non viene ripagata semplicemente con dei soldi, con un compenso economico, viene ripagata anche da certe soddisfazioni. E quindi c'è sempre una motivazione per farlo. Io mi ritengo fortunato e vado avanti, così. Progetti per il futuro, guarda, sono... C'è forse una cosa che si farà in televisione, molto piccola, che può essere un esperimento interessante. E poi spero di avere in futuro del tempo per fare windsurf. Vacanza. Ti ringraziamo per questo spazio che ci hai dedicato. Quindi saluta i nostri telespettatori, Urban Week. Ciao, Rock'n'Roll Urban Week. Ciao, Rock'n'Roll Urban Week. Grazie.